Piti 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 Poo Hello there! Come state ragazzi? Sono io! L'omino frittella! Mancake! Sono un fumble, sì lo so, un fumble da fumble land Sono un errore di spelling Mrs. Spelling mi sta cercando per togliermi la M di man o mino e mettermi la P di pen o della A Già, vuole trasformarmi in una frittella ma io sono un omino ho anche la cravatta ho anche la cravatta mi aiutate a ripetere le parole? Piti Pan Padella Pan Ancora Pan E adesso la parola uomo Man Ancora Man E ora la torta Cake Ancora Cake Fantastico! Bravissimi! Ci vediamo alla prossima volta! Bye kids! 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 Grazie a tutti.